Nell'ambito dell'operazione Interforze IGEA, il personale medico della Marina Militare ha iniziato il servizio presso il drive-thru di Villa Pergara, all'Ido di Camaiore, per l'esecuzione dei tamponi molecolari. I militari sono impegnati nel turno mattutino, dalle 8 alle 14, per i tamponi dei cittadini che si sono prenotati tramite medici di famiglia al portale dell'ASL. Il servizio presso l'ospedale Versilia va ad aggiungersi a quelli già operativi a Firenze, Pistoia e Aulla. Questa attività nasce all'interno di un'operazione, l'operazione IGEA, voluta dal ministro della difesa, proprio per alleggerire il carico sul territorio. Vengono effettuati presso questa postazione dai 100 ai 120 tamponi giornalieri, in una fascia di età che va dalla popolazione pediatrica fino ai soggetti più grandi. Ogni nucleo è composto da un medico e due infermieri. In Toscana sono attivi già quattro drive-thru di Forza Armata che vengono gestiti in autonomia da personale sanitario, sia marina, come in mio caso, sia aeronautica, esercito o carabinieri. Un servizio che consente all'azienda sanitaria di poter liberare personale da poter impiegare in altre attività, oltre che nell'altro drive-thru dedicato alle preospedializzazioni. Quest'operazione per noi è molto importante, l'esercito con la marina militare si sono resi disponibili a eseguire dei tamponi presso il nostro drive-thru, questo con un orario dalle 8 alle 14, praticamente in questo modo hanno liberato nostre risorse che a breve rimpeghiamo per poter potenziare i drive della Versilia. Il team Interforce di incremento al Servizio Sanitario Nazionale nell'attività di effettuazione dei tamponi potrà avere a disposizione fino a 1.400 militari in grado di eseguire fino a 30.000 tamponi al giorno sul territorio nazionale.